Buonasera a tutti, qui Davide, benvenuti nel mio canale. Da questa mattina, tragedia, questo è quello che compare se andiamo sul sito di ChatGPT. ChatGPT Disabled for Users in Italy. Cioè dall'Italia, se facciamo una connessione dall'Italia, non possiamo utilizzare il servizio di OpenAI, ChatGPT, dall'Italia. Quindi vedremo come poter risolvere questo problema creando in pochi minuti una VPN per poter continuare a utilizzare ChatGPT. Prima però cerchiamo di capire cos'è successo. Andiamo sul sito del Corriere della Sera, uno dei tanti siti in cui si parla di questo fatto. Cos'è successo? Il garante della privacy, dati personali a rischio e OpenAI blocca l'accesso. E' successo che l'autority italiana della privacy ha contestato a OpenAI, OpenAI l'azienda, questo è il loro sito, OpenAI l'azienda che sta dietro a ChatGPT. L'autority ha contestato a OpenAI di non gestire in modo corretto i dati personali degli utenti. Dati personali ma anche i dati di pagamenti. Quindi OpenAI rischia una multa di 20 milioni di euro. Visto il rischio hanno deciso questa mattina di bloccare tutte le connessioni dall'Italia ai loro server. Per continuare ad utilizzare ChatGPT senza problemi dobbiamo installare una VPN. Una VPN è una rete privata virtuale. In parole povere cos'è una rete privata virtuale? È una connessione protetta, cartografata, che facciamo tra noi, quindi il nostro computer, i nostri device, un server, un server che fisicamente può stare in qualunque posto del mondo, quindi fuori dall'Italia, e il resto della rete. Cosa succederà quindi? Succederà che le connessioni che noi faremo non risulteranno fatte dal nostro indirizzo IP, ma dall'indirizzo IP del nostro fornitore di accesso, che sarà il nostro fornitore della VPN. Esistono VPN gratuite a pagamento. Adesso noi faremo una prova utilizzando il servizio di Atlas VPN. Ho preso questo perché mi dà 5 GB gratuiti al mese. Per fare le mie prove andava benissimo. Utilizzeremo Atlas VPN e vedremo come far funzionare di nuovo ChatGPT. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intanto installare il client. Andiamo su VPN Apps e scarichiamo la versione gratuita di Atlas VPN. Scarichiamo la versione gratuita ovviamente a seconda del nostro sistema operativo. Io sto utilizzando Windows, quindi scarico l'installer per Windows. Io l'ho già installata. L'installazione si fa veramente in poco tempo. Quindi apro l'applicazione di Atlas VPN. Questa è l'interfaccia di Atlas VPN. Cosa vediamo? Vediamo un elenco di stati che corrispondono quindi a dei server al di fuori dell'Italia. Allora, mi dà in questa finestra, mi dà Disconnected. Io cosa faccio? Clicco su Netherlands che è gratuito, un server messo a disposizione gratuitamente. E parte la connessione a questo server. Fantastico, siamo connessi adesso al server dei Paesi Bassi. Torno in Chrome, torno in ChatGPT e faccio un refresh della pagina. Tac, funziona. Abbiamo di nuovo ChatGPT. Perché? Perché OpenAI, quindi il server di OpenAI, vede che la nostra connessione arriva non dall'Italia, ma dai Paesi Bassi. E quindi dice, possiamo utilizzare il servizio. Facciamo una prova? Scriviamo qualcosa qua in ChatGPT. Beh, li chiediamo cos'è una VPN. Vediamo cosa ci risponde. Una VPN, una tecnologia di rete che consente di creare un collegamento sicuro e crittografato tra il tuo dispositivo e un altro network attraverso internet. La VPN serve, ok, in questo caso per continuare a utilizzare ChatGPT, ma è anche uno strumento molto utile a chi sta, a chi risiede in stati in cui ci sono delle restrizioni sui contenuti. Quindi è un servizio veramente utile e interessante. Bene, spero che questo video vi sia servito e speriamo soprattutto che ChatGPT torni ad essere utilizzabile di nuovo in Italia. magari anche stando più attenti alla privacy.